Un mansardato con 7 posti viaggio, 7 posti letto, 7 posti a tavola sotto i 7 metri, il Venima Sport 323. Andiamolo a scoprire insieme. Siamo in Spagna, la presentazione della gamma 2023 di Venima e ecco qua il mansardato 323 che ha la possibilità di trasformare i letti al castello posteriore in gavone, solo 191 centimetri. Entriamo dentro per un'occhiata veloce. Appena entriamo qua abbiamo i letti a castello, eccoli qua, i letti a castello, che come ricordo è possibile trasformare in un gavone. Poi la pianta è cucina ad L, spaziosa qua dietro, tanti pensili, doppia dinette trasformabili in letto matrimoniale e letto singolo o divanetto, una grande mansarda e qua di fianco abbiamo un grande armadio in frigo e la toilette con doccia separata. Qua è la toilette, un grande piatto doccia e qui abbiamo la toilette con finestra e houblon. Quindi famiglia numerosa, onologato 7 posti viaggio, 7 posti letto e 7 posti a tavola, il Venema 323 può accontentare anche la famiglia molto numerosa. Cari amici di Vacanzelandia, se avete visto questo video vi chiediamo di fare mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube e alla pagina Facebook e seguite su Instagram e su vacanzelandia.com potete trovare tantissimi altri contenuti utili per calperisti e gabbaggiatori. Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao a tutti e al prossimo video!